C'era Pedron, l'anno scorso c'è un giocatore che a noi fa molto piacere che possa essere il titolare perché è abruzzese Lorenzo Piazza, figlio d'arte e che naturalmente ha un legame forte con la nostra regione. Sostituirlo non è facile, ma tu sei molto bravo Lorenzo, devi credere soltanto nelle tue enormi potenzialità e immagino che tu sia molto felice di essere a casa. Certo, certo, per me è un orgoglio in primis, poi sicuramente avrò una bella responsabilità perché come hai detto tu, Pedro, ha avuto la sua importanza qui a Ortona, quindi speriamo tutti insieme, insieme alla squadra, di fare bene, di aiutarci tutti insieme in modo da ottenere dei buoni risultati, che sono convinto che con il lavoro ci riusciremo. Lorenzo, quando ti è arrivata una battuta che girava nell'aria, potresti andare a giocare con l'impavida, che cosa hai pensato? Finalmente? Perché ci avrei pensato anche nel passato. Certo, certo, sicuramente dopo tanti anni fuori, ben otto, prima di Ortona, ho tirato un bel sospiro di sollievo, poi sicuramente tornare in A2, farlo a casa, ti ripeto, è un motivo di orgoglio di più, giocare per la mia terra, quindi non potevo che dire di sì immediatamente. È vero che questa è una squadra ricostruita, praticamente, perché non ci sono più giocatori dell'anno scorso, quindi è molto difficile assemblarla per queste ragioni, però Ortona, non soltanto la tradizione, ma quest'anno ha anche una gran bella squadra di qualità. Sicuramente, come hai detto tu, Ortona è una piazza che ormai da tanti anni fa la Serie A, due, ha una grandissima tradizione, di base c'è tanta qualità, poi dovremmo essere noi gli artefici e metterla in campo nel migliore dei modi, quindi ci dovremmo dare da fare sotto questo profilo.